Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi dopo tantissimo tempo siamo tornati qui nell'OP Lucky Prizon Ebbene si ragazzi, davvero ho passato tantissimo e dico tantissimo tempo dall'ultima puntata dell'OP Lucky Prizon Tanto è vero che nell'ultimo video vi ho mostrato appunto queste cose fighissime che mi hanno regalato E ringrazio ancora quei ragazzi che credo che tutt'oggi saranno morti dopo così tanto tempo Raga, perché sono tornato qui? Per diversi motivi Il primo è quello più importante, ossia molti di voi nella live che ho fatto chiamata appunto vorrei abbandonare YouTube Mi hanno dato l'idea di tornare su Prizon, provare perché loro comunque continuano a giocare, si divertono e quindi volevano che provassi a tornare qui Dopo il mega contest ragazzi praticamente non c'ho più un nerdato, quindi vedete che non c'è nemmeno un miliardo La cosa figa ragazzi ho visto che hanno modificato molte molte cose, hanno fatto tanti aggiornamenti E questo mi rende ancora più felice perché è una motivazione in più per tornare a nerdare un pochettino qua Poi inoltre vedo che stilotti, guarda come sono belli Certo mi aspettavo di più, ma io qui c'ho la fly giusto signor? E se che c'ho la fly signor? Cioè raga io non mi ricordavo nemmeno che VIP era, non mi ricordavo nulla di nulla E adesso sto contento perché sinceramente mi mancava un pochettino, poi raga con la shaders se ti vede di Minecraft ha un altro effetto Quindi davvero vi devo ammettere una cosa, prima di andare avanti facciamo salutare YouTube, poi vi dico una cosa Raga non so mai chi saluterà, non so nemmeno se adesso dire salutare YouTube è un banno o roba del genere Tanti anni che non ci vengo qua sopra, dubito che me salutano eh Qualcuno si ma sicuramente non è nemmeno un mio iscritto Comunque tralasciando questo raga, volevo dirvi una cosa, la premessa Ossia ultimamente avevo lasciato un po' Minecraft perché mi ero dedicato più a CSGO, Arma 3, Rocket League Più giochi da svago diciamo, ok? Più da cazzeggio in modo che uno si rilassava Però devo ammettere che da quando ho messo la shaders raga ho molta più voglia di giocare Perché rende il gioco molto diverso e ti rilassa anche di più raga Perché comunque guardate, sti effetti sono una cosa bellissima e ti rende tutto più bellissimo Allora raga, oggi non vi aspettate che vado a scavare, facciamo roba particolare Semplicemente controlliamo un po' dove eravamo rimasti, no? Con un po' questi regali, tutti questi kit boia Poi qui dovrei fare una buona costruzione, adesso vedo un po' come organizzarmi Non ho mai avuto un'idea però è ora che me la faccio venire Poi andiamo qua C'è tutta sta roba kit falsorica, penso a farlo tipo un give di buon ritorno raga Però prima di portare avanti la serie, cosa che mi sono dimenticato Molti di voi già avranno chiuso il video raga E lasciate sti cavolo di like Ho visto che le views sono pochissime Perché il video precedente del server di Medicaccio Che vi invito ad andare a vedere Ha raggiunto tipo le 120 views se non sbaglio, quindi pochissimo Però nonostante ciò ragazzi non voglio abbattermi Voglio continuare a fare video così come mi avete detto nella live Perché diciamo mi avete abbastanza caricato e convinto Di conseguenza raga vi invito a lasciare un enorme like se volete che porti avanti questa serie Sto facendo avanti e dietro perché vedo qui un problemino Eh vedi che c'era il problemino Però raga FK davvero devo vedere un po' cosa fare Vediamo un pochettino che c'è nelle ceste A parte lì che c'è tutta la roba no? Ci dovrebbe essere tipo una cesta di regali Giusto? Sì Questa è la cesta di tutta la cosa che mi avete regalato Anche qui con i vari libri Raga libri bellissimi Adesso ne prendo uno a caso adesso No questo non mi sembra il caso Per Luke Dai questo per Luke sembra un messaggio d'amore Vediamo un po' Raga giusto per vivere i vecchi momenti Ciao Luke ti ammiro per quello che fai E farai in futuro per te stesso e per i tuoi iscritti Asagroad2000 Addirittura ragazzi sto video Sto video scusatemi Sto libro è vecchissimo E di Z Just Leo Persone che ragazzi credo che non mi seguono più Non vorrei sbagliare E questo mi fa anche male Perché comunque non mi seguono Però raga guardate quanti libri c'è stato Molte di voi si sono divertiti E vi dico una cosa raga Per chi ha seguito il video fino adesso lo saprà Per chi non l'ha fatto Cacchi loro Ritornerà il momento del commento del giorno Quindi voi mi scrivete un bel commento Carino belluccio Io lo metto nel prossimo video Come commento del consiglio Commento più bello Commento non lo so Come volete voi Detto questo ragazzi Io spero che questo ritorno Su L'Uppila Gipraison Da voi sia gradito A questo punto lasciate like Commentate il video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima Vi ricordo Tanti like per il prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti